Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Bentornati dopo due settimane di pausa alla nostra serie Imperatore, se con cui stiamo raccontando la storia dell'impero romano attraverso i suoi imperatori. La puntata di oggi chiude una dinastia, la dinastia di Teodosio, anzi come vedremo teoricamente ne chiude due, quella di Teodosio e quella di Valentignano, e lo fa con un imperatore, Valentignano III, che in qualche modo rappresenta il classico imperatore della dinastia di Teodosio. Abbiamo visto come questa dinastia, dopo il capostipite, che può piacere, può non piacere, ma sicuramente ha dato una grossa impronta ai suoi tempi, Teodosio sicuramente è stato un imperatore che in qualche modo ha forgiato il V secolo dell'impero, positivo e negativo, ovviamente questo va contestualizzato. Dall'altra parte però, subito dopo di lui, la dinastia è incappata in tutta una serie di imperatori che di potere ne avevano ben poco, un po' perché salite al potere spesso troppo presto, bambini, un po' perché lasciavano che a gestire il potere fosse in realtà la loro corte. E praticamente tutti gli imperatori che abbiamo raccontato dopo di lui, forse con la piccola eccezione di Teodosio II, quantomeno per quanto riguarda il codice di leggi, hanno seguito questa regola. Imperatori poco più che fantoccio, che quando facevano qualcosa di loro volontà quasi sempre era un danno per l'impero. Bene, Valentiniano III, come vedremo in questa puntata, farà esattamente questo. Governerà pochissimo, le pochissime decisioni che prenderà saranno delle decisioni che porteranno dei fallimenti e lascerà che in realtà a gestire il potere siano altri uomini e un'altra donna. E quella donna, da cui partiremo proprio a raccontare per quanto riguarda il suo impero, era la madre, Galla Placidia, forse la donna simbolo di tutto questo periodo dell'impero. Insomma, mentre ci accingiamo a superare la metà del V secolo, e siamo veramente quindi a un passo dalla fine della parte occidentale dell'impero romano, vi dico, iscrivetevi al canale se non siete già, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla, e poi andiamo a raccontare i tanti anni di regno di Valentiniano III. Il futuro Valentiniano III nacque nel 419 e in un'epoca in cui spesso gli imperatori avevano dei natali e delle famiglie quantomeno un po' dubbie, i suoi, il suo sangue era invece purissimo sangue imperiale, anche perché era imparentato con praticamente tutti gli ultimi imperatori romani degli ultimi 90 anni, prima della sua nascita. Il padre era Flavio Costanzo, ne abbiamo parlato nella puntata, peraltro lui dedicata, generale romano salito al potere dopo la morte di Belisario, quindi all'incirca nel 410 d.C., il quale non solo dopo la razzia di Roma d'opera dei Visigoti era riuscito a riportare una certa calma all'interno dell'impero, ma era riuscito progressivamente a scalare posizioni in occidente, anche grazie al fatto che l'imperatore legittimo, cioè onorio, di potere ne aveva ben poco e soprattutto non aveva intenzione di esercitarlo. Flavio Costanzo aveva ricevuto in moglie quella che era probabilmente la donna più nobile dell'epoca, cioè Galla Placidia, figlia di Teodosio, quindi sorellastra di Onorio, avevano lo stesso padre, ma soprattutto tramite la madre imparentata con la dinastia regnante precedente, cioè quella di Valentiniano. Insomma, tramite Galla Placidia e tramite il padre, come vi dicevo, Valentiniano III riuniva tutti gli imperatori dei 90 anni precedenti. Ora, dal punto di vista tecnico, al momento in cui nacque, il suo destino sembrava segnato. Flavio Costanzo, ora era imparentato con la famiglia imperiale, sarebbe diventato di lì a due anni imperatore anche lui, Onorio, che era imperatore a sua volta, non aveva figli maschi e quindi sembrava assolutamente chiaro quale sarebbe stato il destino di tutta questa storia. Onorio e Flavio Costanzo avrebbero regnato insieme, fino a quando, ad un certo punto, morti loro due, a succede gli sarebbe stato Valentiniano. Le cose però non andarono in maniera proprio così chiara. Questo perché, come abbiamo già raccontato, nel 421, pochi mesi dopo essere salito al trono come Augusto, peraltro non riconosciuto dalla corte di Costantinopoli, ma questa è un'altra storia, Flavio Costanzo morì, lasciando quindi la moglie e il figlio senza la sua guida. In realtà la cosa non cambiò inizialmente tantissimo le cose, perché Onorio continuava a non avere possibili successori e dato che Valentiniano era comunque della famiglia, decise di farlo nominare nobilissimo Puer, che non era ovviamente una carica politica, anche perché nel 421, quando ciò avvenne, Valentiniano aveva appena due anni, ma era comunque un titolo, un riconoscimento, che sembrava indicare il fatto che il bambino un giorno sarebbe stato il suo successore. Il problema di Valentiniano in questa prima fase però fu la madre, perché ovviamente Galla Placidia, dai nobili natali, non aveva nessuna intenzione di starsene in disparte ad aspettare la maggior età del figlio e in quegli anni più volte cercò di acquisire sempre più potere alla corte di Ravenna, fino a scontrarsi con l'uomo che aveva sostituito Flavio Costanzo come uomo forte dell'esercito romano, cioè Castino. Ora, questa storia l'abbiamo raccontata tra la fine della puntata dedicata a Flavio Costanzo e la puntata dedicata a Giovanni Primicerio, quindi vi rimando a quella puntata se volete approfondire. Ma per semplificare, Castino cercò di condurre una campagna contro un popolo barbaro stanziato in Iberia, cioè i Vandali, non dimenticatevi, purtroppo in questa puntata ne parleremo molto, ma il suo esercito venne abbandonato, abbandonato prima da generali romani, in particolare da un tal Bonifacio che si rifugiò in Africa, anche lui non dimenticatevelo, dopodiché anche dai barbari che lo accompagnavano, cioè i Visigoti. Nella cosa venne accusata proprio Galla Placidia, che dopo tutto in passato era stata moglie del vecchio re dei Visigoti, cioè Ataulfo, e che coi Visigoti continuava ad avere dei collegamenti. Quando Castino, sconfitto dai Vandali, tornò a Ravenna, riuscì a convincere Onorio della colpa di Galla Placidia, la quale nel 422 o 423, non lo sappiamo benissimo, prese il figlio, baracche e burattini, e si trasferì alla corte di Costantinopoli. A questo punto le cose cambiarono di nuovo. Nel 423 d.C., infatti, Onorio morì. Ora, a scegliere un nuovo imperatore, almeno sulla carta, tutti si aspettavano che sarebbe stato l'imperatore d'Oriente, l'unico Augusto rimasto in tutto l'impero. Non dimenticatevi, lo dico sempre, che all'epoca nessuno parlava di due parti separate dell'impero. L'impero era uno, ma era gestito da due Augusti, ognuno con la sua parte da gestire. Inizialmente, Teodosio II, anche egli molto molto giovane, nicchiò però su questa scelta attese, probabilmente perché aveva in mente di riunire l'impero nelle sue mani, e questo permise a Castino, rimasto in Occidente, di fare leggere dal Senato un proprio imperatore fantoccio, cioè Giovanni I Cerio. A questo punto, Teodosio, dopo aver riunito l'esercito e finalmente pronto ad affrontare l'Occidente, decise che tra un usurpatore ed un bambino della sua stessa famiglia era preferibile la seconda scelta. E quindi, non avendo neanche lui dei figli maschi, neanche Teodosio II avrà dei figli maschi, decise di nominare Valentiniano, ormai Valentiniano III, come nuovo Augusto d'Occidente. Mandare lui e la madre via mare in Italia, e secondo alcune fonti rischiare così di farli morire in un naufragio, ma i due si salvarono, ma soprattutto mandare un esercito al comando del generale Aspar a sconfiggere Giovanni I Cerio e a prendere al bambino il trono. Le cose andarono esattamente come previsto, e come abbiamo già raccontato nelle puntate scorse, e nel 425 d.C. Valentiniano III sedeva finalmente sul trono di imperatore a Ravenna. Ora, inutile dire che nel 425 d.C. Valentiniano aveva sei anni, e quindi difficilmente avrebbe potuto regnare direttamente, e di fatti fin dall'inizio ad essere nominata come sua tutrice, potremmo dire reggente, fu la madre, Galla Placidia, che interpretò questo ruolo in maniera decisamente aggressiva, non solo limitandosi a gestire la corte, ma imprimendo alla corte molte delle sue scelte, e la cosa è anche dimostrata dalla grande quantità di monete che sono state emesse col suo volto. Fin dall'inizio, però, Galla Placidia si trovò in difficoltà a gestire questo potere, perché, oltre a lei, alla corte erano presenti altri tre uomini, alla corte o all'interno dell'impero, della parte occidentale dell'impero, tre uomini, tre generali, che in maniera diversa potevano esercitare un grosso potere, e con loro, Galla Placidia, dovette fare i conti. Il primo di questi generali si chiamava Costanzo Felice, e dei tre era indubbiamente il più forte. Costanzo Felice fu l'uomo che riuscì ad imporre il suo potere a Ravenna, e almeno fino al 430 d.C., quindi per i primi cinque anni di regno, riuscì a mantenere il controllo sulla corte insieme a Galla Placidia. Lui sarà nominato Magister Militum, quindi teoricamente comandante di tutte le truppe dell'impero romano d'Occidente, anche se in realtà in questi cinque anni la sua carriera fu principalmente politica, tanto da arrivare a diventare addirittura console. Ad affiancarlo però, tra gli uomini forti, ce n'era un altro, un uomo che, a differenza di Costanzo Felice, durante la guerra civile che aveva visto contrapporsi Valentignano III e Giovanni Primicerio, non aveva appoggiato Valentignano III, ma proprio l'usurpatore. Il suo nome era Flavio Ezio. Ora, di Ezio anche abbiamo parlato nella puntata su Giovanni Primicerio, generale romano, di origini scite, che proprio dall'usurpatore Giovanni Primicerio era stato incaricato di procurare un esercito, un esercito che lui era andato a cercare presso gli Unni, questo popolo, o meglio, questo insieme di popoli che occupavano i territori oltre il Danubio. Bene, arrivato dagli Unni e procuratosi un esercito, Ezio era tornato indietro, ma una volta tornato aveva scoperto che le forze di Giovanni Primicerio erano già state sconfitte e Giovanni catturato. A questo punto, capendo che non poteva più fare molto da solo, aveva deciso di accordarsi e, sfruttando il fatto che con sé aveva un esercito che sicuramente faceva grossa paura, decise di trattare proprio con Galla Placidia, la quale, un po' a denti stretti probabilmente, fu costretta ad accettare, ovviamente in cambio del ritiro degli Unni che se ne tornarono a casa, di perdonare e Flavio Ezio, ma soprattutto ridargli una carica, cioè quella di Magister Militum per Gallias, cioè comandante delle truppe romane in Gallia. La cosa aveva due scopi. Da una parte intanto dargli un ruolo subordinato rispetto a quello di Costanzo Felice, dall'altra parte spedirlo nella zona, ne parleremo dopo, che in quel momento era forse più problematica per l'impero romano. Il terzo uomo con cui Galla Placidia doveva fare i conti era invece Bonifacio, proprio quello che aveva tradito Castino. Bene, Bonifacio probabilmente dal punto di vista politico era quello che più di tutti fin dall'inizio aveva appoggiato Valentiniano. Una volta lasciato l'esercito di Castino, infatti si era spostato in Africa, nella provincia d'Africa, grossomodo l'attuale Tunisia, e qui, quando Giovanni Primicerio aveva preso il potere, aveva deciso di non appoggiarlo, anzi, aveva bloccato l'arrivo di Grano in Italia e aveva in qualche modo indebolito la posizione dell'usurpatore. Nonostante questo, le sue forze militari erano decisamente inferiori rispetto a quelle dei due avversari, e proprio per questo fu anche quello che ricevette meno da questa spartizione. Se ne dovette tornare in Africa e ottenne il titolo di Comesse Afriche, cioè comandante delle truppe in Africa. Anche lui, ripeto, non dimentichiamocelo, perché tra poco questi tre inizieranno a scontrarsi fra di loro. E Galla Placidia? Beh, non è che Galla Placidia si accontentasse semplicemente di mantenere l'equilibrio tra questi tre. Nei suoi primi anni di reggenza, in favore del figlio, infatti cercò in tutti i modi di trovare delle altre sponde, e la prima sponda che trovò fu proprio quella con l'imba parte orientale dell'impero, con Teodosio II. I due, prima che Valentiniano e la madre partissero per postarsi in Italia, avevano già siglato un accordo e avevano sancito un fidanzamento tra Licini Audossia, cioè la figlia di Teodosio II, e proprio Valentiniano. I due, inutile dirlo, erano due bambini, non si potevano ovviamente sposare in quel momento, si sposeranno nel 437 d.C., quindi appena raggiunta la maggior età, ma in qualche modo la cosa aveva riunito i due lati dell'impero con un matrimonio. Per sancire ancora di più questo legame, Galla Placidia decise anche di cedere del territorio a Teodosio II. Qualcuno dice già nel 425 quando prese il potere, qualcun altro dice nel 437 dopo il matrimonio, fatto sta che la parte occidentale dell'impero, che fino a quel momento aveva sempre governato anche la zona dell'Illiria, una zona molto ampia nei Balcani, lo sapete, è anche una zona da cui venivano molti dei migliori, dove a cui erano venuti molti dei migliori soldati e generali dell'impero, quella zona dell'Illiria passò per volontà di Galla Placidia dal controllo di Valentignano, quindi dalla parte occidentale, al controllo di Teodosio II, quindi alla parte orientale, e da questo momento in poi non tornerà più indietro. Galla Placidia, poi in tutto questo lungo periodo, oltre a cercare di mantenere buoni contatti con l'Oriente, che ci saranno praticamente per tutto il regno di Valentignano III, cercherà anche di regolare la questione religiosa, che in Occidente continuava a essere molto importante, tra il credo niceano, e il rapporto ovviamente con il Vescovo di Roma, con il Papa, e le varie eresie, a cominciare dall'Arianesimo, che era considerato un'eresia, ma era spesso tollerata, perché molti dei soldati, dei generali barbari, che aiutavano l'impero romano, seguivano proprio questa religione. Una situazione complessa che tra poco peggiorerà anche la situazione dell'impero. Ad ogni modo, perché Galla Placidia aveva bisogno di questi generali? Beh, perché se avete seguito le ultime puntate lo sapete benissimo. L'impero romano era in una situazione di grossa crisi, ed inutile dire che il fatto che una parte delle truppe avessero seguito Giovanni Primicerio per andare a scontrarsi con le truppe d'Oriente, non avevano fatto che peggiorare questa crisi. Innanzitutto c'era la Britannia, che era stata perduta, lo sapete già, i romani ormai non avevano più un controllo della Britannia. Durante il periodo di Valentiniano III giunse per l'ultima volta una richiesta di aiuto da parte dei Britanni all'impero romano, dato che i Britanni erano invasi dai Sassoni, e tutto ciò che l'impero fu in grado di fare fu di mandare loro un vescovo, il che fece capire che ormai l'impero romano non aveva più nessuna possibilità, e forse anche nessuna volontà, di aiutare i Britanni. L'Iberia era preda di due popoli barbari, i Vandali, a sud, quelli che avevano sconfitto Castino, erano entrati in Gallia e poi in Iberia come un popolo già abbastanza grande, ma nel corso degli anni, forse anche a causa di qualche errore fatto da Flavio Costanzo, che non aveva annientato alcuni popoli che aveva affrontato, si erano progressivamente ingranditi, e all'inizio del regno di Valentiniano III rappresentavano una grossa spina nel fianco, peraltro stanziata in una delle province più ricche di Iberia, cioè la Betica. E poi c'erano gli Svevi, che invece occupavano il nord-ovest dell'attuale Spagna, lo vedete sulla cartina, e che in quegli anni si spingeranno verso sud, e verso la Lusitania, cioè il Portogallo. E poi c'era la Gallia. La Gallia era un bel caos, C'erano i Franchi a nord, lungo il Reno, c'erano i Burgundi e gli Alani, che entravano nella parte più meridionale del fiume, e poi c'erano ovviamente i Visigoti, che teoricamente erano stanziati in Aquitania, in accordo con l'impero romano, con cui avevano siglato un accordo per prendere il controllo di quella regione, ma che in realtà, approfittando il loro rete odorico, del caos seguente agli scontri, avevano iniziato ad espandersi, cercando di puntare verso Arles, che era una delle città più importanti di tutta la Gallia. Ad aggiungersi a questo, c'erano costanti rivolte, da parte della popolazione che stanca dei saccheggi, stanca delle tasse, stanca della situazione, si ribellavano, quelli che venivano chiamati i Bagaudi, questo termine che ormai sentiamo nominare da più di un secolo di rivolte, sono in effetti rivolte che più o meno nascono sempre per gli stessi motivi, lo Stato non mi difende, lo Stato mi prende troppe tasse, lo Stato mi fa morire di fame, e che i Romani chiamavano tutte allo stesso modo, anche se ovviamente avevano capi e tempi completamente diversi. Ad occuparsi di questa prima fase di scontri, fu proprio Flavio Ezio, che era stato nominato Magister Militum per Gallias, e bisogna dire che in questa prima fase, tra il 425 e il 429, le cose per Ezio andarono bene. Riuscì a sconfiggere i Franchi, ricacciandoli di Raderreno, riuscì a sconfiggere i Burgundi, gli Alani, riuscì addirittura a sconfiggere i Visigoti, riuscendo a rimandarli indietro verso i loro territori in Aquitania, e progressivamente riprese il controllo di buona parte della Gallia. Quando forse già stava progettando una spedizione verso sud, verso Liberia, però le cose cambiarono. Nel 429 d.C., un vero e proprio disastro, uno di quei disastri che, secondo alcuni, portarono proprio alla fine della parte occidentale dell'Impero, avvenne. Cioè i vandali invasero l'Africa. Ora, per spiegare questa invasione, dobbiamo fare un piccolo passo indietro, al 427 d.C. Vi ricordate Bonifacio, che era andato in Africa? Bene, come vi dicevo, i rapporti tra Bonifacio e la corte di Ravenna ben presto si raffreddarono. Bonifacio probabilmente pensava di non aver ricevuto abbastanza, e soprattutto aveva delle idee religiose un po' diverse rispetto alla corte di Ravenna. pare che ci fosse una grossa libertà religiosa e che molte eresie fossero tollerate nella zona di Cartagine. La cosa, ovviamente, portò a una serie di scontri tra lui e Galla Placidia, fino a quando alcuni della corte non iniziarono a dire a Galla Placidia che vi fossero prove che Bonifacio stava preparando una rivolta. Si stava preparando a ribellarsi e a staccare l'Africa dalla parte occidentale dell'Impero, creando un proprio territorio autonomo. Era vero? Era falso? Non lo sappiamo. Secondo molti autori latini, in realtà si trattava di una gigantesca macchinazione. Forse Flavio Ezio, molto più probabilmente Costanzo Felice, avevano preparato il piano per organizzare questa finta rivolta. Avevano convinto Galla Placidia che stesse avvenendo, avevano fatto peggiorare i rapporti con Bonifacio, e ad un certo punto avevano convinto anche Galla Placidia a richiamare Bonifacio a Ravenna affinché potesse discolparsi. Dopodiché avevano mandato una lettera in Africa a Bonifacio dicendogli di non venire a Ravenna se non voleva rischiare di essere ucciso da Galla Placidia. Bonifacio non era andato e la cosa aveva convinto tutti che la rivolta fosse avvenuta. È stato veramente un loro piano? Oppure era veramente una rivolta di Bonifacio? In realtà probabilmente non lo sapremo mai. Come sapete gli autori latini su certe cose vanno sempre presi un po' con le molle. Ad ogni modo, nel 427 d.C. Bonifacio a quanto pare si ribellò, interruppe l'invio di grano in Italia e a tutti gli effetti si pose come un ribelle al potere di Ravenna. Inizialmente Costanzo Felice per ordine di Galla Placidia mandò delle truppe per cercare di sconfiggerlo ma queste truppe non riuscirono nel loro intento e ci riprovarono con l'aiuto dell'Oriente nel 428 all'inizio del 429. A questo punto secondo quanto viene raccontato dalle fonti latine per riuscire a scontrarsi contro questo esercito decisamente più grande Bonifacio decise di chiamare a sé delle truppe in supporto. Chi? Proprio i vandali che se ne stavano in Betica. Ora, i vandali erano un popolo come vi dicevo abbastanza numeroso le fonti latine parlano di 80.000 guerrieri è più probabile che fossero 80.000 in totale tra vandali e una parte di Alani e che in realtà i guerrieri fossero 15-20.000 ma erano guerrieri molto temibili e che con il loro numero avrebbero potuto cambiare decisamente le carte in tavola. Ovviamente non potevano prendere delle navi e trasportarsi direttamente in Africa nella provincia d'Africa quindi in Tunisia perché rischiavano di essere intercettati dalla flotta e per questo utilizzando un numero minore di navi raggiunta Gibilterra attraversarono a di là dello stretto per passare nella provincia di Mauritania. Quando questo avvenne però come viene raccontato Bonifacio ormai non aveva più bisogno di loro perché intanto si era accordato con Galla Placidia i due avevano fatto pace avevano posto fine agli scontri e Bonifacio era rientrato all'interno dell'impero qualcuno dice che avesse mostrato a Galla Placidia la lettera che aveva ricevuto dimostrando che lui non si voleva ribellare ma che era tutta una macchinazione altrui. Intanto però i vandali ormai in Africa c'erano arrivati e nel 429 d.C. iniziarono una campagna spingendosi verso l'Occidente. Ora questa versione della storia è quella più conosciuta secondo alcuni storici Bonifacio invece non chiamo mai i vandali i quali semplicemente rendendosi conto della situazione che stava avvenendo in Africa e anche rendendosi conto che la loro posizione in Betica iniziava a essere difficile perché il territorio era stato razziato erano esposti a vari tipi di attacchi decisero di spostarsi in Africa ritenendolo un territorio più ricco e che fosse più facilmente difendibile. Ad ogni modo nel 429 d.C. i vandali decisero di prendersi con la forza quei territori che loro dicevano a meno che ci dicono le fonti gli fossero stati promessi da Bonifacio e invasero l'Occidente arrivando fino a Ippona che all'epoca era una delle città più importanti. L'assedio di Ippona durò 14 mesi e durante quell'assedio morì peraltro anche il cittadino più famoso di Ippona cioè Sant'Agostino che era nato proprio che era vescovo proprio di Ippona. Ad ogni modo quell'assedio di 14 mesi diede modo a Bonifacio che era già stato sconfitto dai vandali nella loro avanzata di organizzare un nuovo esercito anche grazie all'arrivo di aiuti dall'Oriente ma anche questo secondo esercito sarà sconfitto dai vandali che dopo aver sconfitto Bonifacio occuparono Ippona. A questo punto Bonifacio decise di tornare in Italia ma a combattere contro i vandali rimasero le truppe orientali che guidate dal generale Aspar continueranno a combattere fino al 435 dopo Cristo e alla fine riusciranno a fermare l'avanzata dei vandali. La pace del 435 dopo Cristo però sancirà la perdita di un pezzo dell'impero perché in cambio della promessa da parte dei vandali di non invadere la provincia d'Africa quella più ricca e più importante i vandali ottennero invece il territorio della Mauritania ritagliandosi così un primo pezzo del loro regno in Africa. Ora in una situazione così complessa voi immagino che penserete che i tre generali si fossero uniti Chezio tornato dalla Gallia si fosse unito a Costanzo Felice e che i due insieme alle forze di Bonifacio stessero preparandosi per la riscossa in realtà le cose non andarono così perché i tre approfittarono proprio di questo momento per farsi la guerra l'un l'altro i primi due a cominciare furono Ezio e Costanzo Felice nel 429 dopo Cristo Ezio fu nominato Magister Militum una carica che teoricamente gli dava il controllo su tutto l'esercito dell'impero ma che in realtà probabilmente era comunque inferiore rispetto a quella detenuta da Costanzo Felice una carica che però gli permise di avere sempre più credito a Ravenna e che ovviamente lo mise in scontro con lo stesso Costanzo Felice ora secondo alcune fonti Costanzo Felice a questo punto tentò di far assassinare Flavio Ezio ma il tentativo andò a vuoto secondo altre fonti fu semplicemente Flavio Ezio ad organizzare il tutto fatto sta che nel 430 dopo Cristo Flavio Ezio riuscì a far ammazzare sia Costanzo Felice che la moglie prendendo così il potere quando Bonifacio in fuga dall'Africa raggiunse Ravenna inutile dire che i due giunsero alla resa dei conti e lo scontro avvenne in una vera e propria battaglia che si combatté tra Ravenna e Rimini la battaglia vide teoricamente vincitore proprio Flavio chiedo scusa proprio Bonifacio il quale sconfisse Ezio che fu costretto a fuggire e si andò a rifugiare dagli Unni ma pochi mesi dopo a causa delle ferite che aveva ricevuto in quella battaglia morì lasciando così al suo avversario campo libero per prendersi potere nell'impero oltre a prendersi quel potere dopo la morte nel 432 di Bonifacio Flavio Ezio si prese anche la moglie di Bonifacio la quale in punto di morte pare avesse giurato al marito che non avrebbe sposato nessun altro se non proprio proprio Ezio è probabilmente una leggenda ma è compatibile col fatto che probabilmente i due clan e i due gruppi di interesse si fossero in qualche modo uniti per evitare una futura guerra civile fatto sta che i due si sposarono e i due ebbero anche peraltro un figlio cioè Gaudenzio che teoricamente divenne il successore dello stesso Flavio Ezio a questo punto Ezio che ormai aveva a disposizione tutte le risorse dell'impero decise di incrementare le sue forze quando era tornato in Italia per scontrarsi con Bonifacio scoprendo poi che Bonifacio nel mentre era morto ovviamente non era tornato da solo ma era tornato con un nuovo esercito inutile dirlo fatto da Unni quell'esercito questo si rese conto avrebbe potuto essere la sua salvezza perché ora che l'impero si stava indebolendo quell'esercito avrebbe potuto essere la sua possibilità per cercare di rimetterlo in piedi e così dopo aver convinto Garaplacidia a cedere agli Unni un'altra provincia romana cioè la Pannonia con l'esercito che gli Unni gli avevano fornito e le sue truppe cercò di riportare l'ordine in Gallia e in Iberia la prima cosa che fece fu di dirigersi in Betica nella provincia più meridionale della Spagna che venne riconquistata e la cosa ovviamente fece un grande scalpore anche se parlare di riconquista è difficile perché la Betica era stata abbandonata dai vandali che si erano spostati in Africa e fu necessario semplicemente reinglobarla nonostante gli spagnoli gli iberici chiedessero di affrontare anche gli svevi in realtà Flavio Ezio se ne guardò bene gli svevi vivevano in un territorio montuoso peraltro abbastanza povero e il gioco non valeva la candela dopo aver riconquistato la Betica invece se ne tornò in Gallia e prima affrontò nuovamente alcuni popoli barbari che avevano attraversato il Reno dopodiché cercò di riportare la pace nei territori già romani affrontando le rivolte bagaudiche in Bretagna riuscendole a spegnere e poi affrontando ancora una volta i Visigoti che proprio grazie alle forze degli Unni subirono varie sconfitte e nel 439 d.C. sembravano essere quasi sul punto di essere annientati ora la cosa e ve lo dico perché è interessante come aspetto a molti a Ravenna non è che piacesse tantissimo perché a Ravenna non solo qualcuno diceva che Flavio Ezio stava prendendo un po' troppo potere e magari lo andavano a sussurrare anche alle orecchie di Galla Placidia ma alcuni facevano notare che dopotutto non era tanto da buon cristiano usare degli Unni per massacrare dei Visigoti perché sì i Visigoti erano barbari avevano razziato Roma avevano in passato conquistato vari territori ma dopotutto erano cristiani ariani ma sempre cristiani gli Unni invece erano pagani adoravano divinità giunte da chissà dove facevano cose assurde che mai un romano avrebbe fatto come provare a scoprire divinare il futuro sulle viscere degli animali lo facevano anche i loro antenati ma questa è un'altra storia insomma usare dei barbari senza Dio contro dei cristiani forse non era così corretto insomma questo capite come alle volte le cose venissero prese anche all'epoca nel 439 però un altro disastro si abbattè sull'impero romano ancora una volta ora che Ezio era lontano nel 439 infatti approfittando del fatto che le truppe d'oriente si erano ritirate i vandali decisero di rompere la pace e con una guerra durata oggettivamente molto poco e catturando la stessa capitale cartagine riuscirono ad impossessarsi dell'Africa ora questa mazzata fu terrificante fu terrificante perché non solo l'Africa era il territorio che forniva all'Italia del grano grano di cui l'Italia aveva un gran bisogno perché era molto più popolata di quanto riuscisse a nutrire con le coltivazioni locali senza contare la città di Roma che era enorme per l'epoca anche se bisogna dire che su questo aspetto in pochi anni la cosa si risolse perché i vandali semplicemente iniziarono a loro volta a vendere grano a Roma in cambio di cibo ma fu una mazzata terrificante perché la provincia d'Africa tra tutte quelle rimaste alla parte occidentale dell'impero era probabilmente una delle più ricche una di quelle insieme all'Italia che forniva la maggior parte degli introiti economici introiti economici che ovviamente servivano a pagare l'esercito un tempo di province ricche ce ne erano state tante ma dopo anni di scontri guerre civili e invasioni si erano impoverite la Betica era stata abbandonata dai vandali in uno stato terribile e pagava ormai un ottavo delle tasse che pagava fino a pochi anni prima la Gallia stava diventando un deserto l'Italia era stata comunque saccheggiata più volte insomma le casse di Ravenna si stavano impoverendo e senza oro mantenere un esercito diventava complicato per questo si decise di organizzare una spedizione per tentare di riconquistare quel territorio perduto e a guidare quella spedizione ancora una volta fu la parte più ricca dell'impero cioè l'Oriente Teodosio II come abbiamo raccontato nella scorsa puntata decise di creare un esercito molto grande mille e cento navi un esercito molto numeroso che si sarebbe dovuto imbarcare e dirigere in Africa nel 442 d.C. per guidare la riconquista le cose andarono diversamente perché come abbiamo raccontato poco dopo che le truppe ebbero lasciato la terra ferma un altro popolo gli Unni guidati dal loro nuovo sovrano Attira decisero di invadere i Balcani costringendo l'esercito d'Oriente a rientrare per affrontarli e impedendo così di riconquistare l'Africa i due attacchi furono casualmente quasi contemporanei molti autori latini dicono di no molti autori latini dicono che in realtà i vandali di re Genserico e gli Unni di Attira si fossero accordati per fare questo attacco in contemporanea ad alcuni storici sa un po' di complottismo antelitteram se così vogliamo dire ma in effetti molte fonti riportano questa cosa ripeto molti storici non ci credono decidete voi se la cosa fosse casuale molto facilmente come ho raccontato già nella scorsa puntata non ci fu realmente un accordo tra i due popoli ma Attila capito che le cose stavano cambiando dal punto di vista militare nei Balcani decise semplicemente di approfittarne fatto sta che ora che non c'era più l'Africa a disposizione in effetti i vandali condurranno addirittura delle campagne andando a razziare con la loro nuova flotta la Sicilia sud dell'Italia quindi ancora più indebolendo l'impero romano ora che l'Africa non c'era più ovviamente la situazione per Ravenna si faceva ancora più difficile alla fine proprio per evitare queste continue razzie che avevano obbligato Ravenna a chiedere ai cittadini della parte meridionale dell'Italia e delle isole di imparare ad usare le armi per difendersi in caso di sbarco dei vandali Ravenna alla fine decise di siglare una pace una pace che fu disastrosa perché è vero che i vandali in cambio della pace restituirono una parte dei territori cioè la Tripolitania che avevano occupato e la Mauretania ma si tennero la provincia più ricca cioè proprio l'attuale Tunisia quindi la provincia d'Africa senza più quel denaro la situazione per Ravenna come vi dicevo divenne praticamente impossibile e le vie da seguire furono semplicemente due da una parte ci fu quella di tentare di spremere fino all'ultima moneta i cittadini romani venne aumentata la tassazione in tutte le province vennero tolti qualunque qualunque aiuto qualunque limitazione alle province fatte escluse le ultime riconquistate la Mauretania per qualche anno non poté essere tassata anche perché non aveva soldi da dare in tasse e progressivamente si cercò di rimpolpare le casse con il risultato però non solo di danneggiare l'economia ma di far scoppiare un altro gran numero di rivolte da parte di questi bagaudi di questi cittadini romani che ormai erano letteralmente stremati pensando che ormai l'impero servisse semplicemente a spremergli fino all'ultima moneta l'altro modo per cercare di in qualche modo controllare il territorio lo dovette intraprendere Flavio Ezio che negli anni successivi non solo continuò a combattere per tenere fuori eventuali nuovi barbari razziatori ma accettò che altre popolazioni alcune delle quali in passato le aveva già sconfitte come i Burgundi e gli Alani entrassero a far parte dell'impero e ottenessero una parte dell'impero per potersi stanziare stanziare anche in questo caso in aiuto alle forze militari sostanzialmente dicendo preferiamo avere loro piuttosto che dei cittadini romani rivoltosi perché almeno loro oltre a non crearci forse tanti problemi in ogni tanto ci forniranno anche delle truppe insomma un impero che ormai letteralmente non ce la faceva più con Flavio Ezio che tentava in tutti i modi di puntellarlo senza riuscire a fare nulla il danno successivo e arriviamo forse all'evento più famoso di questo periodo giungerà a metà del secolo cioè dal 450 a 451 dopo Cristo in poi negli ultimi anni 40 del quinto secolo i rapporti fino a quel momento ottimi tra Flavio Ezio e gli Unni andarono progressivamente peggiorando non sappiamo esattamente quale sia il motivo qualcuno parla di antipatia personale tra lui e Attila qualcuno dice che Attila si fosse stancato di supportare quell'impero morente e iniziasse a avere delle mire sui loro territori qualcuno dice che la motivazione fu invece di tipo politico perché ad un certo punto Ezio si trovò a gestire i franchi che aveva sconfitto cercando di fare eleggere come loro sovrano un proprio uomo di fiducia in questo modo per legarli anch'essi all'impero entrando in conflitto con gli Unni che a loro volta volevano nominare un loro sovrano di fiducia fatto sta che oltre a un raffreddamento dei rapporti Attila iniziò a buttare proprio un occhio sull'impero e da questo momento cercò un casus belli per poterlo invadere ora come viene raccontato quel casus belli curiosamente venne dall'interno della corte di Ravenna dalla sorella dell'imperatore Valentiniano cioè Onoria ora Onoria sorella di Valentiniano non si era mai sposata secondo le fonti non si era sposata perché gli era stato così ordinato da Valentiniano ma aveva un amante un membro della corte di Valentiniano che si chiamava Eugenio i due avevano questo amore clandestino che probabilmente durava da parecchio tempo quando ad un certo punto secondo alcune fonti decisero di tramare contro il fratello Valentiniano per eliminarlo era vero? non era vero? anche qua non lo sappiamo le intrighi gli intrighi della corte di Ravenna sono complicatissime sono impossibili da da disbrigliare fatto sta che Valentiniano che fosse vero che non fosse vero questa cosa del tentativo del complotto quando lo venne a sapere decise di ammazzare Eugenio e dopo averlo fatto ammazzare e scoperto che la sorella Onoria era incinta la mandò a Costantinopoli dove lei partorì e il figlio venne dato via una volta che Onoria rientrò a Ravenna per cercare di sbarazzarsi di quella sorella che ovviamente poteva essere molto pericolosa decise di trovarle un marito dandola in sposa ad un senatore di importanza sia economica che politica molto bassa in modo da toglierla dalla storia a questo punto però Onoria decise che quel matrimonio non lo voleva e decise di cercare un aiuto che gli permettesse di evitarlo e chi poteva dargli quell'aiuto? Attila re degli Unni al quale così raccontano le fonti dell'epoca Onoria scrisse una lettera mandando quella lettera insieme a un anello chiedendo ad Attila aiuto e in cambio promettendogli di sposarlo andarono così le cose? anche qui chissà c'è un'altra versione che viene raccontata da alcuni storici ma su questo i dubbi sono veramente tantissimi quest'altra versione vuole che a progettare questa possibile unione tra Onoria e Attila fosse stata Galla Placidia la quale ormai si era resa conto di quanto potere aveva Ezio e intendeva sfruttare Attila proprio per opporsi a Ezio in modo da riequilibrare la situazione militare e mantenere più stabile il trono di Valentignano forse temendo che Ezio prima o poi lo avrebbe abbattuto e sostituito con il figlio Gaudenzio è vera questa teoria? io francamente qualche dubbio su questa ce l'ho anche perché Galla Placidia in realtà nel 450 d.C. morì quindi avrebbe dovuto lasciare la gestione del piano interamente alla figlia nel 450 d.C. in effetti Galla Placidia morì e come molti pensano venne sepolta a Ravenna nel mausoleo di Galla Placidia sbagliato anche se esiste una leggenda che dice che per molti secoli il corpo di Galla Placidia fu all'interno del mausoleo e che andò perduto solo quando uno sconosciuto si avvicinò troppo con una torcia per guardarla dando fuoco ai paramenti facendo quindi perdere la tomba in realtà la stragrande maggioranza degli storici sono convinti che Galla Placidia non fosse sepolta all'interno del mausoleo di Galla Placidia molti ritengono che invece nei suoi ultimi giorni fosse stata portata a Roma o il suo corpo portato a Roma è sepolta in una cappella che si trovava all'interno della basilica di San Pietro originale la cosa interessante poi torniamo alla parte di guerra ma è una storia secondo me bellissima è che Galla Placidia se veramente si fosse trovata all'interno di quella cappella che oggi non esiste più perché è stata distrutta e i suoi paramenti fusi e riutilizzati al momento in cui venne costruita l'attuale basilica di San Pietro non avrebbe riposato da sola all'interno di quella tomba ma in quella tomba oltre allo scheletro di una donna ci sarebbe stato all'interno di un altro sarcofago anche lo scheletro di un bambino e chi sarebbe potuto essere quel bambino bene secondo alcuni storici con un'idea che posso dire essere molto molto romantica ma che forse va presa un po' con le pinze quello scheletro sarebbe stato lo scheletro di Teodosio non Teodosio il padre di Galla Placidia ma Teodosio il bambino che Galla Placidia aveva avuto data a Ulfo re dei Visigoti vi rimando a quella puntata per scoprirlo il figlio di un amore che Montefonti dicono essere stato un amore vero tra Galla e Ataulfo un figlio che era in effetti morto da bambino era stato sepolto in Gallia e che Galla Placidia avrebbe fatto riesumare per far riposare per sempre insieme a sé è vera questa storia? non è vera non lo so ma è molto molto affascinante quindi mi piaceva raccontarvela ad ogni modo Attila quando ricevette quella lettera quale che fossero le motivazioni per cui gli era stata mandata la interpretò un po' a modo suo sostanzialmente dicendo sì vengo in Italia sposo Onoria ma ovviamente come dote per questo matrimonio mi prendo una parte dell'impero e direi che mi posso accontentare di metà dell'impero e dato che tra prendersi la dote e prendersi la moglie la cosa che gli interessava di più era ovviamente la dote nel 451 d.C. le sue forze composte dagli Unni e da tanti popoli a lui sottomessi come i Franchi gli Ostrogoti e tanti altri decisero di invadere la Gallia passando dal Reno la cosa era un disastro l'esercito di Attila era ampiamente più forte di qualunque cosa Flavio Ezio gli avrebbe mai potuto mettere contro ma Ezio fece quello che probabilmente è il suo capolavoro politico approfittando della minaccia degli Unni che probabilmente avrebbero sottomesso chiunque sul loro passaggio riuscì a riunire dei popoli con cui fino a quel momento si era scontrato si accordò con gli Alani si accordò con i Burgundi si accordò persino con il re Teodorico dei Visigoti con cui avevano combattuto per così tanti anni e tutti insieme fecero un esercito che a metà del 451 d.C. affrontò le forze di Attila ai campi catalaunici e le sconfisse in quella che probabilmente è una delle ultime grandi vittorie dell'impero romano d'Occidente Ezio riuscì a fermare Attila ora questa battaglia non ve la racconto perché l'ho già raccontata in una pilola apposita ve la metto in descrizione se volete andarla approfondire quello che però a noi interessa è che se anche in quella battaglia i romani riuscirono a sconfiggere le forze di Attila in realtà non le annientarono e soprattutto non uccisero Attila stesso il quale poté ritirarsi e tornare nei suoi possedimenti perché beh secondo alcuni storici attuali questo non avvenne perché nonostante la vittoria i romani non avevano forza sufficienza per inseguire e distruggere gli unni secondo altri la scelta fu politica perché Ezio che comunque aveva bisogno di forze unne per poter farla contraltare agli altri barbari stanziati in Gallia temeva che distrutto Attila si sarebbe sfaldato il suo impero e ovviamente i romani ne sarebbero usciti indeboliti quindi aveva anche lui bisogno di un equilibrio militare per permettere all'impero di continuare a reggersi giusto o sbagliato che fosse questa decisione in realtà nell'anno successivo si dimostrò un errore perché Attila dopo aver ricostituito un nuovo esercito nel 452 d.C. invase nuovamente l'Italia entrando invase nuovamente l'impero questa volta in Italia entrando dalle Friuli invadendo la parte orientale dell'Italia e mettendo sotto assedio Aquileia ora un anno dopo la battaglia dei campi catalaunici Ezio quell'esercito con cui aveva affrontato Attila non ce l'aveva più perché l'alleanza si era sfaldata Teodorico era morto ed era stato sostituito dal figlio i vari popoli capite la debolezza di Roma avevano deciso di approfittarne e l'unica cosa che Ezio poteva ancora fare fu fare della guerriglia per cercare di rallentare Attila che in realtà sarà più che altro rallentato dal lungo assedio di Aquileia ma che dopo averla conquistata letteralmente dilagò nella pianura padana conquistando Padova conquistando Milano e raggiungendo il Po a questo punto avvenne un evento che è stato raccontato per un millennio e mezzo in mille modi secondo quanto si racconta quando stava per varcare il Po Attila ricevette un'ambasceria un'ambasceria che giungeva dall'impero di cui faceva parte anche il Papa un'ambasceria o meglio il Papa così viene raccontato che riuscì a convincerlo a tornare indietro riuscì a fermare quell'esercito che sembrava imbattibile grazie all'aiuto di Dio ora è difficile pensare che le cose siano andate così anche perché sono state narrate per secoli in modo quasi miracoloso ma gli storici si sono interrogati a lungo sul perché Attila non abbia completato la sua conquista secondo alcuni i romani pagarono un gigantesco riscatto in oro anche se in effetti le casse all'epoca non erano esattamente piene secondo altri invece Attila iniziava ad avere dei problemi militari perché il lungo assedio di Aquileia l'opera di attacchi dietro eline da parte di Ezio avevano indebolito il suo esercito secondo altri invece aveva saputo che il nuovo imperatore romano di Costantinopoli Marciano aveva deciso di approfittare di quell'occasione per attaccarlo alle spalle e avanzava verso nord e col suo esercito pronto a prenderlo tra l'incudine e il martello fatto sta che Attila si ritirò e non ci provò mai più ad invadere l'Occidente perché un anno dopo nel 453 dopo Cristo morirà probabilmente di un'emorragia interna l'Occidente rimase comunque a pezzi queste invasioni avevano dato un'ulteriore mazzata e Flavio Ezio ormai non sapeva realmente più come portare avanti il suo tentativo di puntellarlo in realtà però non ne ebbe il tempo dopo essersi legato alla corte di Valentignano facendo sposare proprio figlio Gaudenzia con Placidia figlia di Valentignano terzo in qualche modo inserendolo meglio scusatemi non sposare fidanzare perdonatemi erano entrambi dei bambini in qualche modo però inserendolo in una possibile linea di successione Ezio sarà in realtà tradito proprio dall'imperatore il quale riceverà notizia del fatto che Ezio dopo il fidanzamento era pronto ad eliminarlo e deciderà di agire per primo ora probabilmente tutto questo ci dicono le fonti fu organizzato da un importante senatore chiamato Petronio Massimo ricordatevelo perché diventerà presto imperatore Petronio Massimo pare che così ci dicono alcune fonti avesse dei rapporti un po' burrascosi con Ezio un po' perché lo vedeva come un uomo che ormai si era preso il potere a Ravenna un po' ci dicono alcune fonti perché pare che Ezio gli avesse sedotto la moglie a noi ci piace un po' di gossi più piace raccontare queste cose anche se probabilmente non è vero fatto sta che Petronio Massimo convince Valentignano del fatto che appunto Flavio Ezio lo stesse per tradire e Valentignano decise di agire per primo durante un incontro in cui i due stavano discutendo della situazione militare Valentignano violentemente lo accusò e poi sguainata l'arma lo uccise era al settembre del 453 dopo Cristo Valentignano che fino a quel momento grossa attività politica non ne aveva fatta esattamente come era successo però lo zio Onorio alla prima scelta vera fatta da solo più o meno aveva fatto un danno dopo la morte di Ezio inutile dire che l'esercito progressivamente iniziò a sfaldarsi ma Valentignano non avrà tempo di vedere che cosa succederà all'esercito romano perché la sua vita durerà solo più pochi mesi come disse qualcuno Valentignano si era tagliato la mano destra con la mano sinistra perché alla fine a gestire l'impero in quegli anni era stato Ezio e molti questa cosa non gliela fecero passare pochi mesi dopo nel marzo del 454 d.C. mentre si trovava a Roma a passare in rivista alcune truppe due sue guardie del corpo che erano state fedeli a Ezio decisero di prenderlo e di assassinarlo di fronte alle truppe inutile dire che nessuno li fermò quello che aveva fatto Valentignano a Ezio non piaceva a molti e nessuno si voleva schierare per aiutare colui che aveva ucciso il generale che in qualche modo era riuscito a puntellare tutta la costruzione dell'impero la dinastia di Teodosio e di Valentignano era finita Valentignano non aveva figli maschi Teodosio II era a sua volta morto senza figli maschi ne parleremo poi nelle prossime puntate e quando Valentignano si accasciò al suolo la sua corona tra virgolette sarà portata proprio a Petronio Massimo che alla fine in tutti i suoi intrighi era riuscito nel suo obiettivo di diventare imperatore il suo come racconteremo nella prossima puntata sarà però un regno breve violento e disastroso per Roma perché proprio durante il suo regno Roma sarà nuovamente razziata questa volta dai vandali la prossima puntata sarà ancora una volta molto molto dolorosa ad ogni modo io mi fermo qua grazie mille di avermi seguito attraverso questa lunga lunga pillola gli avvenimenti da raccontare ce n'erano tanti alcuni li abbiamo demandati alle scorse puntate a puntate più vecchie sono tanti anni di regno inutile dire che gli avvenimenti ce ne sono stati tanti come sempre un grandissimo ringraziamento ad abbonati Patreon chi fa donazioni sul conto Paypal come dico sempre loro purtroppo non riesco a ringraziare direttamente perché non c'è un sistema di messaggistica ma spero che attraverso questi messaggi arrivino anche a loro oggi in particolare il ringraziamento va a Mauro Mazzotti grazie mille tantissimo per il tuo aiuto per il resto come sempre io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete curiosare tra qualcuna di queste storie qui a fianco c'è l'elenco delle pide che uscite fino adesso noi ci vediamo tra due venerdì per mandare avanti la storia degli imperatori che vi dico già a breve accelererà e di parecchio ma venerdì prossimo vi dico già che c'è un'altra puntata dedicata all'impero romano ma ne parleremo tra una settimana a presto ciao ciao